Vergogna! Vergogna! Bastardi! Fighi di puttana donatore di sangue di merda! Un giorno voi morirete tutti e ve lo auguro! Bastardi! Ma qui ci stiamo scherzando? Volete donare sangue ai tempi che copre il 19 ma avrete di sicuro il coronavirus nel cervello? Ignoranti di merda! Vietate la donazione del sangue! Date retta a me! Nel prossimo momento la borsa è la venda! Di vieto di donazione del sangue universale! Prossimamente! Per legge! Nella legge! Fin di legge! Tranquilli! Iscrivetevi e attivate la campanella di avvisi se volete che io la prenda contro tutti! Sarà un piacere proprio! Indicatemi le categorie contro chi dovete prendere! Contro chi devo prendermela! Non le solite categorie! Non le solite categorie omosessuali! Testimoni di Giova! Questa gente qui! Gli omosessuali forse sì perché sono di merda lo stesso! Si beccano tutti i likes! E poi vogliono andare a donare sangue ma andate a cagare! Donatori di sangue omosessuali! Beh detto questo... Iscrivetevi e attivate la campanella di avvisi! Commentate con gli internet! Grazie a tutti!